Io non l'ho mai fatto, se vuoi giocare con velocità lineare, abbastanza vicino alla rete, è comico che rimane qua, se io invece gioco top spin alti profondo, magari allora mi stanno anch'io, mi stanno lì. Non c'è una regola, perché qua è sempre una sciarpa, non è così, la sciarpa va bene adesso che è fresca.